... Mercoledì 28 agosto, buongiorno, ben ritrovati per la nostra rassegna stampa del mattino. Andiamo a vedere cosa ci propongono i quotidiani in edicola stamane, quali sono i temi caldi, gli argomenti principali di oggi e come sempre lo faremo dando un'occhiata alle varie prime pagine per capire attraverso i titoli in primo piano, come detto, quali sono gli argomenti principali di oggi. Cominciamo subito il nostro giro, lo facciamo partendo dai quotidiani siciliani, il quotidiano la Sicilia, tanti i temi affrontati, lotta di classe, questo uno dei titoli, in Sicilia appena il 4% di studenti senza cittadinanza italiana, il record a Ragusa, i sindacati più integrati meno dispersioni, ius scuole un sondaggio tra i professori, 3 su 4 sono favorevoli. E poi alto là della Lega sulle pensioni, per l'uscita anticipata il carroccio insiste su quota 41, seccono all'allungamento delle finestre, il 28% va via prima dei 60 anni. Commissario europeo e finanziaria Meloni prepara il vertice A3, richiamate tutte le unità, queste le parole della Premier. Allarme invece nella zona del petrolchimico a Melilli, piovono idrocarburi, ISAB parla di una anomalia transitoria. Sull'Etna invece prima neve, ma giù si boccheggia a Catania picchi di 33 gradi, dunque l'Etna si imbianca per una nevicata, una grandinata, insomma comunque per una temperatura che scende. Giù invece sotto l'Etna, a Catania in questo caso vedete si continua a boccheggiare con temperature sempre molto molto alte. In taglio lauterale il naufragio dell'imbarcazione avvenuta nel Palermitano, il pianto e il silenzio del comandante davanti ai PM, l'inchiesta intanto si allarga. E poi Regione, ai balneari autorizzazioni brevi prorogate di 30 giorni per i ritardi dell'iter e infine ato rifiuti Catania. La città metropolitana ancora condannata non poteva uscire. In taglio alto mostra di Venezia sfilata di Star, oggi l'apertura con Tim Burton che dirige Monica Bellucci. Giro delle città partendo da Catania, casa abusiva ma dopo 40 anni. Spari invece contro un'auto in viale Bumacaro, sempre nella città etnea. Caltagirone, da domenica nuove corse degli autobus, a Giardini Naxos invece, foce del San Giovanni, morto un delfino. Proseguiamo con la nostra rassegna, lasciamo il quotidiano alla Sicilia, andiamo a vedere la prima pagina del giornale di Sicilia. Ampio spazio all'inchiesta sulla Bejesian, ovvero l'imbarcazione, la nave a vela che è affondata nelle acque del Palermitano. Il comandante del veliero in lacrime, vedete davanti ai PM Catfield molto scosso quando l'interprete gli ha letto le accuse di naufragio e omicidio colposo, poi però ha scelto di non rispondere. Altre sezioni dedicate sempre a questa notizia, tempi lunghi per il recupero del relitto, timori per il carburante sott'acqua e si parla, vedete, di una possibile bomba ecologica ovviamente da evitare. Il precedente, altro downburst rilevato nell'Adriatico, raffiche di vento subito fortissimo. Altre notizie, in primo piano sul giornale di Sicilia, acqua dei corsari, siamo a Palermo, Parco Grassi degrado tra rifiuti e carcasse, mentre a Partinico è stato tratto in arresto dai carabinieri, un ladro seriale che aveva effettuato un furto anche in chiesa. E poi il calcio, finalmente arriva la prima vittoria in questo campionato di Serie B per il Palermo, rosa nero che spugnano la Cremonese, 1-0 con un gol decisivo nel finale di partita di Insigne. Non è stato un bel Palermo, a dire il vero, la squadra di Dionisi ha sofferto tantissimo, ma alla fine però tre punti preziosi e che possono dare morale e spinta per proseguire poi su questa scia, speriamo, vincente. Altre notizie, da oggi la mostra di Venezia, da Lady Gaga a Brad Pitt, VIP e film a Venezia, mentre la Sicilia è penultima in una particolare classifica in Italia, si parla di Asilinido, sono davvero pochissimi, vedete l'isola è maglia nera. Meloni invece è rientrata a Palazzo Chigi dopo le ferie ed è già scontro sulle pensioni, la Lega boccia la stretta annunciata. Andiamo avanti con la nostra rassegna stampa, vediamo la prima pagina della Gazzetta del Sud, vediamo quali sono gli argomenti in primissimo piano. Messina ha altre 130 stabilizzazioni, esce dal precariato un folto numero di lavoratori della Social City che adesso conta più di 1300 dipendenti e questa è certamente una notizia molto positiva. Sul fronte a Asilinido invece, lo abbiamo visto prima, la Sicilia si conferma al penultimo posto in Italia e questa invece è tutt'altro che una buona notizia. Rogo a Stromboli chiesto il processo per se indagati, il disastro ambientale lo ricorderete durante le riprese di una fiction della RAI e poi la situazione in Ucraina e in questo caso in Russia, dunque la guerra tra Ucraina e Russia, rischio nucleare per gli scontri nel Kursk, l'AEA dopo aver visitato la centrale russa lancia l'allarme, Kiev missile balistico ok. Mosca intanto contro Parigi per il caso Durov e unia una intimidazione, questa la posizione che arriva dal Cremlino per quanto riguarda in questo caso il punto sulla guerra tra Ucraina e Russia. Proseguiamo con la nostra rassegna, ci spostiamo su Repubblica, l'edizione di Palermo, anche qui ampio spazio al naufragio della Bejesian, il naufragio vedete di Porticello, il silenzio del capitano, proseguono dunque le indagini dopo il momento del dolore, adesso bisogna capire le responsabilità di questa terribile tragedia costata la vita, lo ricordiamo, a sette persone. Ieri è stato interrogato il comandante neozelandese della Bejesian, gli inquirenti ricostruiscono tutti i movimenti dell'equipaggio nella tempesta, lui però non risponde alla procura e poi azioni e omissioni da parte di cinque marinai. Il caso, siamo sempre su Repubblica Palermo, in amore e cura non esiste genere, associazioni contro Patrizia Biaggi. Il calcio in taglio centrale col Palermo che si sblocca alla terza giornata di campionato e spugnata Cremona, vittoria importante contro la Cremonese, una delle squadre più forti del campionato, come ha detto una vittoria sofferta, ma comunque alla fine sono arrivati tre punti pesantissimi. Regione siciliana, nomine sanità, ultimo giro di Valzer e poi si parla tra le altre cose anche di turismo, il comune presta ascolto alle guide, più vigili e decoro in centro. Lasciamo Repubblica Palermo, restiamo però sulla Repubblica con la prima pagina dell'edizione nazionale, si parla invece di politiche, in questo caso meglio scontro nella maggioranza, scontro per quanto riguarda l'autonomia differenziata, Forza Italia stop alla Lega. Sale la tensione nella maggioranza, gli azzurri frenano sul DDL Calderoli, critiche anche dagli esponenti di Fratelli d'Italia nel Sud, intervista al Vescovo Savino, quel progetto dice un pericolo mortale, riferendosi ovviamente all'autonomia differenziata. La replica puntuale da parte di Zaia è una lettura fuorviante e di parte, in questo caso sempre, dell'autonomia differenziata. Giorgia Meloni intanto oggi incontra Weber per trattare su manovra e commissario europeo, questa è la notizia in primo piano su Repubblica. Ci spostiamo invece sul Corriere della Sera, manovra muro della Lega sulle pensioni, Cey all'attacco dell'autonomia definita un Far West. Mentre per quanto riguarda la guerra, Kiev conquista 100 paesi russi, Zelensky annuncia il test di un nuovo missile balistico, anche l'Iran e gli Emirati in difesa di Durov, Kursk però vedete allerta nucleare per gli scontri, il Telegram, il Kremlino accusa Parigi. In questa foto invece, Oliviero Toscani, la malattia, non so quanto mi resta il celebre fotografo, ho perso 40 chili, purtroppo non è una malattia curabile, queste le parole dello stesso, lo vedete in questa foto, Oliviero Toscani, 82 anni. Proseguiamo con la nostra rassegna stampa, vediamo cosa ci propone stamane in prima pagina il quotidiano del giornale, tante le notizie analizzate, si parla di economia globale, le sfide dell'economia globale, casse vuote, Starmer si prepara, Londra tira aria di patrimoniale, questo è l'annuncio criptico da parte del premier laburista. Mentre arriva un sorpasso spaziale sulla Francia con l'industria italiana che vola più in alto, grazie anche al PNRR. Tornano i giudici, salva clandestini, bloccati rimpatri, immigrazione e giustizia, non convalidati, i fermi di cinque tunisini. E poi la notizia di ieri, ve lo vedete, si tratta di Scesni, ex portiere della Juventus, il cuore non c'è più, ha dichiarato il portiere, l'uscita coraggiosa del portiere pensatore che dunque decide di ritirarsi dal calcio. E poi la cronaca, Sharon, possibile svolta in questo caso, identificato un uomo, si cerca chi si allontanò in bici dal luogo del delitto, vedremo se alla fine si arriverà alla risoluzione di questo caso di cronaca. Dal giornale alla prima pagina della Quotidiano La Stampa, missili e caccia F-16, questa è la risposta di Zelensky, l'allarme dell'Agenzia Atomica per gli scontri nel Kursk, si rischia anche di colpire la centrale nucleare. E poi, in primo piano, le pensioni che agitano il governo, nomine stretta sulle uscite anticipate, Altola, Lega, Fratelli d'Italia rilancia, bonus mamme anche alle lavoratrici autonome. Per quanto riguarda invece le nomine europee, Ursula von der Leyen apre all'Italia, scelte legate al peso dei paesi, la guida sarà il piano Draghi. E poi iniziano oggi a Parigi le Paralimpiadi Giochi da Favola, questo il titolo scelto dal Quotidiano La Stampa e dunque in bocca al lupo a tutti gli atleti che parteciperanno all'edizione 2024 delle Paralimpiadi in Francia. Lasciamo La Stampa, ci spostiamo sul Fatto Quotidiano, Liguria, Ultimatum, Movimento 5 Stelle e Idem o noi? Orenzi, vedete questa la scelta, dentro o fuori? Elischlein tace, ma dovrà decidere entro il 30, se no salta Orlando. Elischlein vuole Matteo, ovvero Matteo Renzi, le ha promesso aiuto per la leadership, ma la base è in subbuglio per i suoi tradimenti. Insomma, vedete, se nella maggioranza di governo insomma la situazione non è tutta rose e fiori con degli scontri su determinati importanti temi, anche sul fronte Demi, insomma non tutto fila liscio con Elischlein che deve decidere, una decisione molto importante e vedremo poi quali saranno in effetti le decisioni da parte del leader del Partito Democratico. Noi proseguiamo con la nostra rassegna stampa, questa è la prima pagina del quotidiano il messaggero, delitto di Sharon sulle tracce dell'uomo in bici, chiuse le strade a Terno d'Isola, test decisivo o killer. E poi il supermissile di Zelensky, la risposta alla Russia dopo gli attacchi a tappeto, testato un'arma balistica prodotta da noi, Kiev prova a sfondare a Belgorod l'ONU, frammenti di droni alla centrale nucleare di Kursk. Cantiere e manovra, saranno rimodulati gli assegni per i figli, bonus mamma anche a partite IVA e autonomi, Lega, pensioni, le finestre mobili non si toccano. Spazio anche al calcio, si parla in questo caso della Roma, colpo danso, ora la Roma può cambiare, preso il difensore austriaco, mentre la Juve per 60 milioni piazza un altro supercolpo sul mercato, ovvero il centrocampista Koppmeiner. Dalla messaggero alla prima pagina del secolo XIX, che apre con un tema importante, ovvero quello legato ai balneari, grido da parte dei sindaci, procedure avviate in ordine sparso dai comuni, Genova modello per i criteri della buon'uscita, l'assessore Scaiola, chi ha investito si ha premiato. Tensione in Liguria, sulle gare mancano le linee guida, il tempo è scaduto, mentre Giorgia Meloni vede fitto. E a proposito di Liguria, mancano due mesi al voto, Cavo e Orlando congelati, le elezioni il 27 e 28 ottobre, tra 30 giorni il deposito delle liste, e qui abbiamo visto prima la scelta importante che dovrà fare Ellie Schlein, quindi Movimento 5 Stelle o Renzi. Dal secolo XIX alla prima pagina di Libero, in primo piano invece la questione migranti, il barcone dei Vescovi divide la Chiesa, basta portare migranti in Italia. Avvenire annuncia, missione finita, non era un'iniziativa ufficiale, la scelta di andare in mare con le ONG a tanti sacerdoti non è piaciuta. I giudici invece liberano 5 richiedenti asilo in un solo giorno. La CEI critica perché non ha capito bene l'autonomia, queste le parole di Luca Zaia, che a proposito di riforme alleanza, vedete, dice la sua, soprattutto dopo le critiche arrivate proprio da parte della CEI in merito all'autonomia differenziata, che a dire vero sta dividendo diverse categorie, diverse regioni, a quanto pare anche diversi esponenti della stessa coalizione di governo. Parliamo di sport, andiamo a vedere le prime pagine dei tre principali quotidiani sportivi italiani, partiamo dalla Gazzetta dello Sport, ovviamente tanto calciomercato, le ultime mosse dei big per completare la rosa, e allora occhio al Milan, vedete che ci prova per Rabiot il diavolo. In crisi tenta il colpo grosso a centrocampo, il francese è libero e potrebbe essere, insomma, un'occasione importante per il Milan, ma l'alternativa è già pronta e si tratta di Manu Coné. Si riapre anche la pista Ebram, alla Roma potrebbero andare soldi, più il cartellino dell'esterno Salemecker. La Juve invece è da scudetto, preso anche Copmener, davvero un mercato da grande squadra per la Juve, che ha messo a disposizione una rosa importante a Tiago Motta, Juve che tra l'altro è partita benissimo in campionato con due vittorie nelle prime due gare della stagione. Il Corriere dello Sport, 200 milioni su Motta, completa la Juve, vedete un mercato con Copmener che è in bianco-nero a pochi precedenti. Otto acquisti a rate per l'all-in di Tiago Motta. Il centrocampista olandese oggi a Torino, visite firme, è costato 54 più 6 di bonus, mentre Sancho potrebbe non vestire la maglia bianco-nera, ma scegliere invece il Chelsea. Chiudiamo con tutto sport, anche qui la Juve, finalmente Copmener, la Juve adesso sogna, l'olandese a Torino, stamani visita e firma, ora l'affondo su Sancho, ma abbiamo visto come scrive il Corriere dello Sport che c'è la concorrenza forte da parte del Chelsea. Altre rinforzi per una squadra già stupefacente, primato costruito sul gioco e sui giovani, in attesa dei nuovi big. La storia di Savona, scoperto a otto anni, chiesa invece tra Liverpool e Barcellona, mentre Cesni lascia il calcio. Poi il tennis con Sinner che batte anche i fantasmi, US Open all'inizio paga le scorie del caso Clostable, alla fine poi travolge McDonald's e dunque Sinner va avanti nella competizione e speriamo ovviamente possa arrivare fino in fondo. Noi invece ci fermiamo qui, abbiamo fatto e concluso il nostro giro delle prime pagine, chiudiamo dunque questa rassegna stampa, ma ovviamente non si ferma l'informazione sui nostri canali, prosegue lungo tutto questo mercoledì, partiamo a breve con tutte le edizioni di Spazio Notizia per tenervi sempre aggiornati e allora anche oggi come sempre vi invitiamo a rimanere con noi a più tardi.